Nooo Eccolo Vi anticipo una cosa Il film mi ha tenuto Letteralmente Incollato per tutta La durata Ciao ragazzi Ciao ragazzi e ragazze Ciao a tutti Allora mi sono preso qualche minuto in più Infatti sono un attimo in ritardo sulla tabellina di marcia Per la produzione di questo video Perché sono andato a vedermi Gli episodi Della partita tra Inter e Verona Allora ragazzi Io Voglio dirvi una cosa Che se c'è qualcosa che ho imparato Nei miei 42 anni E 30 anni e passa che seguo il calcio È che il destino Il fato Il dio del calcio Manda durante le stagioni Dei segnali Incontrovertibili Ok Al netto che Si potrebbe parlare del gol Fatto dall'Inter per il 2 a 1 Dove c'è quella gomitata di bastoni Insomma Le immagini insomma Sono abbastanza chiare Ma non è quello il mio punto Dove voglio portarvi Voglio portarvi sul rigore sbagliato Al centosettesimo Centottesimo Insomma Della partita Ragazzi Quelli sono episodi Che ti fanno capire Che la stagione Sta andando In una determinata direzione Se tu prendi Un rigore contro Al centottesimo In una partita Che nel caso L'avessero pareggiata La Juve poteva fare punteggio Il Milan Non sappiamo Adesso arriviamo a parlare Del nostro Milan Domani Se vinceva la partita Poteva riavvicinarsi Ancora E diventare Ancora molto più pressante La posizione anche del Milan E non soltanto Quella della Juve Tirano il rigore Lo sbagliano Ragazzi Ripeto Ripeto tutto Per essere più chiaro possibile Che l'Inter Sia una squadra forte È un dato di fatto Perché sennò Non fai tutti questi punti Ok Che l'Inter Sia una squadra forte È assodato Che Tutti gli episodi E parlo di episodi di campo Non sto parlando di episodi Di arbitrali Ma che tutti gli episodi Di campo Da inizio stagione Gli siano girati Tutti Completamente a favore Quello per loro È un segnale importantissimo Perché ripeto Quando il fato Quando il dio del calcio Decide Che tu prendi un rigore Contro al centottesimo Che ti potrebbe mandare in crisi Ma lo sbagliano Quello è un segnale ragazzi È un segnale È un segnale importantissimo Non sto rosicando eh ragazzi Non sto rosicando Perché noi Abbiamo i nostri problemi Noi arriviamo da Non vinciamo in trasferta Adesso ne parliamo Non vinciamo in trasferta Da tre mesi Quindi noi abbiamo Tutti i nostri problemi Ok? Che non riguardano La corsa a scudetto Noi in questo momento Dobbiamo continuare A fare punti Per guardarci Da quelli dietro Poi vediamo Tra un po' Dove saremo E vediamo Se riusciamo a tirare A tirare i nostri A tirare i nostri Il conteggio Di dove siamo A febbraio Marzo Tirremo La La somma Di dove siamo Però Ripeto Se c'è qualcosa Che ho imparato In trent'anni di calcio Raga È che I segnali Che arrivano Dal dio del calcio Se sono quelli Che abbiamo visto Pochi minuti fa A San Siro Per l'Inter C'è ben poco da fare C'è ben poco da fare Perché anche quando Ripeto Che l'Inter È una squadra forte Ma anche quando La partita Prima ho letto Un messaggio Che mi ha fatto ridere Di Matteo Matteo ha scritto Lo scommetto Non lo ricordo Chi lo stava scrivendo Comunque era Scommetto che se quel rigore Fosse stato contro il Milan 100% era gol E io sono sicuro Sono sicuro Anch'io di questa cosa Ragazzi Perché è così Perché ci sono stagioni Dove Come quest'anno All'Inter Ti sta girando Tutto Tutto Ti sta girando Tutto bene Fino ad oggi E ci sono invece Stagioni come il Milan Dove Vuoi per problemi nostri Vuoi per questo Per quello E quell'altro Ogni cosa Che ti può girare male Ti gira male Ti si fanno male Quattro difensori centrali Nel giro di una settimana Nella partita contro il Napoli Basta E siamo andati in M L'unico giocatore Che non ti si doveva far male Era Ficai Otomori Perché non hai più Difensori centrali Ti si fa male Ficai Otomori Ma non Ti si fa male E torna No Ti si fa male E sta fuori Un mese e mezzo Due Capite Capite Ripeto Io non sto rosicando Non sto rosicando Noi facciamo un altro campionato Noi non stiamo Combattendo Per vincere Il trofeo Perché probabilmente Se lo giocheranno L'Inter E la Juve Noi stiamo lottando Per tenere quelle dietro Tenerle lontane E poi a me febbraio marzo Vedremo dove siamo E vediamo se si può fare Eventualmente Le spluane Le ultime dieci partite Per capirci Quindi non sto rosicando Sto parlando di una cosa Che col Milan Non c'entra niente Però La mia esperienza E Sono sicuro Che tutti i vecchi Rossoneri Che stanno guardando Questo video Concorderanno con me Ci sono segnali Inequivocabili Ragazzi Segnali Inequivocabili Che portano Buon per l'Inter Purtroppo per noi Perché siamo un tifo contro Porteranno Non so come dirlo Porteranno Quello che deve succedere Dal lato Dall'altro lato Di Milano Vedremo poi Vedremo Vedremo cosa succederà Ragazzi Quindi in questo momento La classifica dice Inter a 48 punti Juve a 43 Milan a 36 Mi sembra Sì perché siamo a 9 punti I Milan a 36 Quindi quelle dietro Abbiamo Fiorentina a 33 Bologna a 32 Atalanta a 29 Roma a 28 Andiamo in sigla Perché poi dopo Vi devo raccontare Una cosa importantissima Rimanete qua Perché parliamo anche Di Terracciano Perché Terracciano Contratto chiuso Si 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 Nelle prossime ore Ci sarà Verrà depositato Il contratto Adesso parliamo anche di quello Prima di andare avanti Ragazzi Importantissimo Lasciare pollice in su Per portare fortuna La C Milan Per la partita di domani Mi raccomando Perché domani di fortuna Ne avremo bisogno A camionate Ne avremo bisogno Nel primo commento Trovate il link Diretto al mio secondo canale Grazie Il secondo canale Sta letteralmente volando Andiamo a botte Di 50 iscritti al giorno Quindi grazie veramente a tutti I video stanno andando benissimo E continuate a guardarne Nel primo commento Trovate il link Andiamo in sigla Vi devo parlare di Terracciano Della formazione di domani Vi devo parlare di un po' di cose Uno Due Tre Sigla Partiamo dalla partita di domani Allora ragazzi La partita di domani È una partita importantissima Mi ero preparato Sull'Inter Mi ero preparato Non ve le leggo neanche raga Mi ero preparato Ho visto che ha parlato anche Sogliano Che è il Il DS del Verona Che ha rilasciato Chi se ne frega Sinceramente raga Tanto oramai È inutile anche parlarne Tanto oramai punti L'Inter li ha fatti Quindi punto Rimane lì Entriamo Più che parlare Della partita di domani Che è una partita fondamentale Noi entriamo in una settimana Ragazzi Che determinerà Quello che è il nostro futuro Voi direte Lollo stai esagerando Ni Ni Ne no ne si Perché La partita con l'Empoli domani E la partita con la Roma In casa Sono due partite che Se le imbrocchi tutte e due Fai punteggio pieno Tutte e due Rimani lì Rimani in alto In alto Molto molto in alto Ok E rimani lì Attaccato al treno In alto Se invece non fai risultato domani Se invece non fai risultato Con la Roma Eh raga Diventa difficile Diventa difficile Andiamo A incasinarci Incredibilmente Per anche il quarto posto Diventa Veramente Sono tutte lì Fiorentina 23 Bologna Eh 33 Scusate Al netto ovviamente Dei risultati Che poi ci saranno in questa Tra oggi e domani Fiorentina 33 Bologna 32 Atalanta 29 Roma 28 Anche la Roma 28 Raga Se non fai Se non fai risultati pieni Anche la Roma 28 Vince contro di te Fa tre punti E sei lì Capite quello che vi dicevo Quindi Partite di domani Importanza Capitale Partita con la Roma Importanza capitale E in mezzo Partita con l'Atalanta Di Coppa Italia Che Già giochiamo contro l'Atalanta E quindi Inutile che ve lo dica Che già mi crea Un'ansia incredibile Giocare contro l'Atalanta Ma al di là di questo La partita di mercoledì È una partita Che se vinci Vai avanti E poi dopo ci pensi Perché poi dopo ci pensi A aprile Maggio Quando è che è Marzo Aprile Insomma Giù di là ci pensi Poi per andare avanti Però ti dà una spinta in più Ti darebbe Una spinta in più Il sogno È quello di vincere domani Vincere con l'Atalanta E vincere con la Roma Allora sì Che secondo me Inizieremmo Inizieremmo Ad aggiustare Tante cose Vabbè Dai Andiamo avanti Vi devo parlare di Terracciano Ragazzi Perché Insomma Terracciano È fatta È fatta Praticamente Terracciano è un nuovo giocatore Del Milan Anche la gazzetta nello sport Conferma Terracciano è praticamente Un nuovo giocatore Al Verona Come già riferito 4 milioni e mezzo Più uno di bonus C'è chi parla anche Di un 10% Sulla futura rivendita Però contratto di 5 anni Insomma Quindi Contratto Contratto lunghissimo Mi hanno colpito Le parole Di tanti esperti Di Tattiche Che Parlando di Terracciano Dicevano che è uno Dei giocatori Con Il più alto Tasso Di Partecipazione Tattica All'interno Della sua squadra Cioè comunque Cosa spiegavano Che è un giocatore Lo traduco Per i meno Meno esperti È un giocatore Molto attento Al dettaglio tattico E noi in questo momento Dove tante volte Tatticamente Abbiamo fatto Molta molta fatica Il fatto di inserire All'interno dell'organico Un giocatore Che Terracciano Domenica 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 giochi Lì E devi fare Questo Punto Ecco Già iniziare A mettere a posto Queste cose Secondo me Sarebbe molto importante Sul discorso soldi Vabbè Non saprei neanche Cosa dirvi 4 milioni e mezzo Di euro Sono Tanti soldi Ma sono Comunque Per un giocatore Italiano Perché poi Ricordo a tutti Che Terracciano È un giocatore Italiano E quindi Per le liste Noi abbiamo bisogno Di giocatori Italiani Perché questa cosa Tanti continuano A dimenticarsela E Insomma È un giocatore Che può giocare a destra Può giocare a sinistra Può dare il cambio a Teo Può dare il cambio a Calabria Può giocare Eventualmente Se dovessimo In un futuro Giocare con la difesa 3 Può fare il braccetto Nella difesa 3 Può giocare Come esterno Destro In una difesa In un centrocampo Di una difesa 3 È un giocatore Con tante caratteristiche Ok Sono molto curioso Di vederlo E sono curioso Di sapere anche voi Che cosa ne pensate Vi porto una bella notizia Riguarda Noa Okafor L'ha annunciato Pioli Dopo andiamo a leggere Delle parole su Su Crunice L'ha annunciato Pioli In conferenza stampa Okafor tornerà A disposizione Con la roba Quindi Ah Finalmente Riusciamo a A recuperare Qualche tassello Finalmente Dopo Musa Che abbiamo recuperato Dopo Gabbia Che si sta allenando Con la squadra E anche Okafor Tornerà a disposizione Nella partita Contro la Roma E finalmente Anche qua Iniziamo a mettere Tasselli su tasselli Per ricomporre Un puzzle Che è caduto È andato È andato in mille pezzi Della conferenza stampa Nella quale appunto Mi avete visto prima In diretta Su tutti i canali ufficiali Del Milan Mi sono segnato Due cose La prima va bene Era questa qua Contro Riferita a Okafor La seconda invece Riguarda Crunice Perché Crunice Perché il giornalista Chiede A Crunice Al minister Li chiede di Crunice E il minister Dà una risposta Abbastanza emblematica E dice La realtà È che siamo E che sia meglio Per tutti Che il giocatore Quindi Crunice Stia cercando Stia cercando Una nuova squadra Ma non è Che si è fatto Fuori da solo Sono stato io Perché il suo rendimento Non era più Quello di prima A che cosa si riferisce Il minister Qualche settimana fa Un paio di settimane fa Al minister Li hanno chiesto Perché Crunice Non sta trovando Non sta trovando più spazio E lui risponde Dicendo Non è che non si sta Allenando bene Non lo vedo più Al cento per cento Della sua condizione Questa seconda dichiarazione È figlia di quella Cioè quindi Quando gli dicono Perché non l'hai fatto Più giocare Lui dice Perché probabilmente Il giocatore Con la testa Magari sta già pensando Ad un'altra squadra Quindi a quel punto È meglio per lui Ma anche per noi Che si trovi Un'altra 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 destinazione Quindi dice Non è lui Che si è fatto fuori Il mister dice Sono io Che ho scelto Di non farlo giocare più Ultima cosa Che vi volevo leggere Oggi è un video Abbastanza corto Ragazzi Perché sono già Le 4 Quasi le 15.44 Di pomeriggio Devo andare Fuori con Claudia E mio figlio E quindi devo fare Abbastanza in fretta Perdonatemi Se oggi il video Non sarà di Di mezz'ora Ma purtroppo oggi Non posso fare a meno Dopo devo portare Il bambino Allora Veniamo alla formazione Che scenderà in campo Domani Tra Empoli e Milan E si giocherà Alle ore 12.30 A Empoli Milan Mike in porta Davide Calabria Sulla destra Indovina Kier Centrale Ah qua La gazzetta Mette Matthew Cage Mette Matteo Gabbia Allora La gazzetta Ve la leggo Come la mette la gazzetta Quindi Menian Calabria Kier Gabbi Ateo Sulla sinistra Reinders Adri Adli Loftus Pulisic Giroud E Leao Quindi a differenza Di quello che pensavo io Io non pensavo Giocasse già domenica Questo scrive la gazzetta Non so se poi Corrisponde in realtà Comunque questo è quello Che scrive la gazzetta Dice questo Dice che praticamente Il Milan dovrebbe Già far esordire Subito pronti via Gabbia L'alternativa Vediamo se ce n'è un'altra Vediamo questa Sky Leggiamo quella di Sky Menian Calabria Kier Teo Florenzi Vedete Render Sadri Loftus Pulisic Jovic E Leao Qua addirittura Sky Mette Jovic E mette Teo Centrale Insomma diciamo che Ci sono un po' di cose Un po' così Ragazzi Vi saluto Vi ringrazio Scusate il video corto Ma per obblighi familiari Come vi dico sempre Arriva prima Il mio dovere da papà Prima di tutto Vi saluto Vi ringrazio Come sempre è stato un piacere Fatemi sapere qua sotto Cosa ne pensate Ciao a tutti Forza Milan E vada via Il Q l'Inter Ciao Ciao